Voglia di fare musica Autoclub storico italiano o meglio Asi che fa parte dell'autoclub storico italiano una raccolta incredibile di moto ma non solo moto anche vespe ne parliamo di scooter con Ariel Azzori Lei è? Sono consigliere federale Asi appassionatissimo di moto e quindi sono qua all'EICMA dove rappresentiamo il motorismo storico nel settore delle motociclette Mi faccio brevemente una storia dell'Asi e quando è nata e che cosa possiamo trovare qui perché so che in qualche modo la carrozzeria Bertone che ormai è fallita ha a che fare con voi e soprattutto quello che riguarda un po' l'artigianato mettiamola così Sì, noi abbiamo acquistato tutta la collezione della Bertone e abbiamo investito i nostri denari come si suol dire in questa grandissima collezione importantissima per evitare che si disperga e vada all'estero anche se l'avevamo bloccata nel senso del come bene culturale italiano che doveva rimanere insieme e in Italia quindi abbiamo fatto anche questa operazione noi curiamo tutto il motorismo storico dall'inizio fino ai vent'anni perché per essere storiche i mezzi devono avere vent'anni quindi l'Asi è nata 52 anni fa a Bardolino che era l'Asi che cos'è? è una federazione di club e a quei tempi lì nel 56 no nel 66 mi confondo e gli anni passano appunto c'è stato questi club che si sono riuniti a Bardolino e hanno fondato questo Asi Auto Motoclub Storico Italiano per difendere il motorismo storico sotto ogni forma adesso qualsiasi mezzo di locomozione noi lo certifichiamo quanti diciamo così quante sono i veicoli storici che abbiamo oggi qui a Legma ma in realtà quanti ne avete voi? beh come soci noi l'Asi attualmente abbiamo 135 140 mila soci come certificazioni abbiamo ci sono i vari gradi di certificazione in questo caso qua noi parliamo di omologazione certificata dell'entità cioè quando l'Asi riconosce che la moto o il veicolo qualsiasi veicolo è un originale e viene applicata la famosa targa oro dove tutti è il mezzo più ambito cioè la certificazione più ambita perché riconosce le fatiche e i denari esporsi dal proprietario per rendere effettivamente originale il proprio veicolo questa è la gioia di tutti i collezionisti che poi diventa collezionista e chi è proprietario insomma di queste auto e moto storiche è contento anche perché non paga più la tassa sì ecco noi abbiamo ma più che altro l'appassionato si è quasi sposato col suo mezzo quindi la cosa più importante è il mezzo non il valore economico ma anche appunto tutte le macchine le moto tutti i veicoli certificati dall'Asi hanno diritto qua in Lombardia di avere un'esenzione quasi totale e di questo noi dobbiamo ringraziare la regione Lombardia che è molto sensibile al motorismo storico e quindi abbiamo le facilitazioni sia come assicurazione e anche di circolazione oltre a non pagare il bollo la tassa di possesso per le ventennali e abbiamo anche la facoltà dato che sono iscritte a registri storici un numero esiguo rispetto al numero dei veicoli circolanti possiamo circolare anche se sono euro zero euro uno euro due nel caso del diesel quindi in questo caso è meglio avere un veicolo storico un veicolo storico non è un mezzo di trasporto quotidiano è l'amore quotidiano per il mezzo di trasporto che non bisogna bisogna usarle il più spesso possibile per insegnare agli altri che non sono fortunati come noi che abbiamo questa passione di avvicinarsi a questo mondo fantastico è la passione che noi anche questa mostra è diretta l'EICMA è diretta per i veicoli moderni per attirare le nuove prodotti ma noi vogliamo far sensibilizzare i visitatori dell'EICMA a questo motorismo storico perché è un amore folle e quando c'è l'amore è la gioia dell'uomo e si illuminano i suoi occhi mi dice solo una cosa tra questi modelli che abbiamo qui oggi qual è il più particolare? più particolare noi abbiamo voluto fare in questa mostra di veicoli del dopoguerra solamente dei veicoli del dopoguerra per vedere l'evoluzione delle varie scuole la scuola britannica la scuola giapponese la scuola italiana gli scooter le vespe ecco il pezzo più importante è l'MV quattro cilindri da gran premio però ma beh perché è importantissimo perché ha vinto il campionato del mondo portato da Agostini da Giacomo Agostini ma anche tutti gli altri mezzi hanno rappresentato la storia anche sociale dell'Italia i vari scooter hanno permesso alla gente di muoversi di conoscersi di divulgare le proprie idee e quello è l'importante del veicolo e quindi questi veicoli hanno rappresentato dall'inizio degli anni 50 fino agli anni 80 che hanno quelle moto i sogni da ragazze quando uno aveva il cavo a 900 si sentiva l'agostino di turno sulle strade normali peccato e sono finiti quei tempi senta in chiusura visto che è simpaticissimo e mi ha spiegato tantissimo se lei dovesse portare una donna in giro quale sceglierebbe il sedile unico oppure come erano le vecchie vespe quello con i sedili separati perché i sedili separati perché perché è più comodo per il passeggero perché il guidatore il driver ha la gioia della guida invece il passeggero ha la gioia di avere il compagno o la compagna davanti che la guida quindi è tutto diamogli almeno la comodità del viaggio del viaggio ecco che poi dove portare il viaggio non si sta ma sì la moto è la cosa più bella io ho anche le macchine no ma la moto ti senti più avventuroso ti piace più l'avventura vai in giro senza nessuna meta per provare la gioia di vedere la natura e anche per provare il proprio mezzo ah dove hanno sperato è terribile io non l'avrei mai fatto non l'avrebbe mai fatto? io non l'avrei mai fatto allora visto che dobbiamo provare l'ebbrezza di com'era stare in sella e nei sedili superati ecco ad una lambretta del 1956 modello ld però il signor azzori mi diceva che una volta le donne non si sarebbero dovute sedere così a cavalcioni brutalmente a cavalcioni no ecco perché avevano le gonne e dopo era un pochettino c'era una privacy un po' particolare chiamiamola così e oggi non c'è più e oggi non c'è più è bello il mondo che si evolve non bisogna mai essere e quindi andavano di lato come le cavallerizze senti una cosa che vedo un contachilometri particolare sì è un contachilometri che tutti avevano questa qui della lambretta c'era la lotta tra la lambretta e la vespa ecco questa qui è abbastanza chi vince eh sì ha vinto la vespa io ero un lambrettista ah sì ero un lambrettista però ha vinto la vespa e ancora adesso è una bella è una bella è un bello scooter è un bello scooter come cantavano i luna pop della vespa 50 ci salutiamo il cinquantino bisogna ricordare quando il cinquantino era la gioia cioè i ragazzini studiavano per essere promossi per avere come regalo il cinquantino della piaggio ecco è vero adesso invece chiedono i telefonini vabbè cambia il tempo cambia il mondo grazie allora intanto il tuo nome Andrea Andrea che cosa cerchi in una moto ma soprattutto cerco diciamo che nei momenti liberi quando vado in moto cerco libertà sicuramente ma sicuramente tanta stabilità stabilità anche con una donna e che sappia andare in moto oppure no ovvio infatti la mia donna sa andare in moto la tua donna sa andare in moto quindi ognuno ha la propria moto o è bello viaggiare in due ma è bello anche viaggiare in due ti dirò sì senti in chiusura fammi un acronimo di EICMA utilizzando le lettere parlando di moto quindi parti di moto con EICMA questo è difficile è difficile dai dai ce la puoi fare allora E come non mi viene ok è la prima andata bruciata I come impennare C dai C come catalizzatore ok e A come ammortizzatore M M come mi piace andare in moto va bene prossimo viaggio prossimo viaggio mi piacerebbe fare la parte del portogallo non sarebbe male grazie grazie a te eh 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 Grazie.